Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video per cosa iscrivetevi al mio canale e altro lasciate tanti like tra l'altro se arriviamo a 20 like farò un nuovo canale farò un nuovo video con magari con le cose che ho comprato oggi magari forse ok, adesso vi parlerò molto della musica, che a me piace tanto la musica, nel senso che mi piace nel senso che mi piace molto la musica, perché essendo che faccio danza da praticamente 11 anni ho iniziato quando avevo 7 anni ho iniziato a danza, quindi fate conto voi, 11 anni che ballo e per quest'anno ovviamente ho ballato in casa così ma non ho fatto danza perché per un problema fisico e psicologico un problema fisico che ho avuto, infatti sono stato operato per quello ok, adesso vi farò sentire un po' di canzoni questa è la mia preferita Wake me up in cui per me vuol dire tanto perché ha un significato per me importante cioè che quando quei giorni in cui stavamo in macchina di mia mamma e tutte le altre persone in cui stavano con me e ho ascoltato questa canzone mamma netta che mi ricordo tanto anche l'estate quindi è bellissimo praticamente quell'altro cantante che mi piace molto è Gira che mi piace molto Per me questa canzone ha un testo molto profondo Quindi mi piace molto Ok, grazie